A volte i vecchi amori ritornano, succede che uno prova ad andare avanti, ci proverà, proverà altri amori, altre emozioni, altre esperienze, proverà a perdersi in altri occhi, in alte braccia, proverà a viaggiare, a scoprire altri posti e magari proverà anche quelle storie del senso impegno e per un po' di tempo sarà bene anche così. A volte i vecchi amori ritornano, capiterà di incontrarsi per le strade, nei giorni d'inverno, leggendo un libro. In quelle righe ritroverà voi due, allora durante la notte ci penserà e il mattino seguente farà qualcosa per i veri vi incontro. A volte i vecchi amori sconvolgono più della prima volta, più intensi, più forti ancora. Si ancorano addosso certi amori, non c'è scampo. Allora che serve provare a scappare se quello che si vuole è essere presi per un braccio e non lasciarsi più? Grazie.